Ma che fin la vita? Riparte il 5 luglio alle 21 con la proiezione di Padre Nostro. Quali sono le novità di quest'anno? Beh, anzitutto la novità di quest'anno è che ripetiamo questa iniziativa. Non è scontato in tempo di pandemia riuscire a portare avanti i progetti, gli impegni che a lungo gli anni abbiamo realizzato insieme a Confcommercio. Siamo contentissimi di ricominciare con questa iniziativa del Cineforum. Sempre investiamo sulla cultura con sapere che abbiamo asso cultura, abbiamo leggermente e anche questo strumento di comunicare del film e del Cineforum ci piace moltissimo. Famiglia alla prova, il tema di quattro film che saranno proiettati presso il Cinema Teatro Aquilone, tutti recentissimi e con cassa d'eccellenza. Da Pierfrancesco Favino, Paola Cortellesi e Valerio Mastrandrea. Sarà una rassegna, l'insegna della resistenza, cioè la volontà in un tempo in cui siamo molto presi da questioni contingenti, in cui abbiamo problemi ben più gravi rispetto a quelli di andare al cinema, ecco resistere nella volontà di regalarci un momento di gratuità in cui si sta insieme e ci si confronta con un'opera d'arte. Si vive la bellezza dell'avere delle persone intorno, di fare un ragionamento e di andare a casa dicendo ho passato una bella serata, ecco la resistenza nell'idea di concederci il gratuito è forse la novità di quest'anno perché è questa gratuità, è questa bellezza, è questo incontro che rende bella la vita, non la risoluzione dei problemi quotidiani. Per info e prenotazione scrivere a segreteria.chiocciolachiesadilecco.it o telefonare allo 0341 28 24 03 Grazie a tutti.